Big Blue presenta la nautica, presenta tante imbarcazioni, ma quello che manca in questo evento fieristico così importante è di vedere le barche sul mare. Ma qui con noi c'è Vincenzo Tottola che è l'organizzatore del più grande evento che c'è nel Lazio con le barche in mare. Ce ne vuole parlare? Beh, diciamo che qui abbiamo la possibilità di vederle e di visitarle. A due fiere possono camminare benissimo insieme e credo che sia veramente un fiore all'occhiello di quella che è la comunità laziale dell'economia del mare, perché noi crediamo che quello che è nautica e cantierista vada bene con quello che è la logistica, il turismo, il turismo nautico, con tutto quello che si parla di mare, perché realmente il mare è un'economia, quindi ecco perché la fiera dell'economia del mare.